ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video primo video della nuova stagione video organizzativo ve lo avevo anticipato nell'ultimo video vorrei avere un po le vostre opinioni su cosa fare nella stagione 2021 2022 raccontarvi un po come è andato anche il canale perché credo che dopo anni sia anche carino una volta spendere due parole io non sono uno di quelli che ogni tre per due vi racconta successi e insuccessi sono robe che tendenzialmente mi tengo per me però fare il punto della situazione capire dove il pubblico vuole andare credo faccia parte anche di una buona buon comportamento da parte di un creatore di contenuti e quindi parliamo in un momento per quanto riguarda il canale youtube io sono al momento ancora stabile sui due video settimanali il post partita il giorno dopo e la giornata fatemi spendere due parole per quanto riguarda i post partita io lo so me lo scrivete continuamente che il post partita sarebbe meglio farlo subito dopo per una questione di visualizzazioni per una questione di appeal per una questione di interesse il problema è che il contenuto come lo voglio fare io cioè fatto bene ragionato dicendo non banalità non è possibile farlo subito dopo perché non sono gianni brera perché non sono paolo condo e non è che tutte le volte mi viene qualcosa di intelligente da dire nell'arco di 30 secondi quindi la scelta è un video il giorno dopo ponderato cercando di andare a trovare delle sfumature o dei dettagli oppure un video subito ma di una banalità scorgertante c'è nel senso un video in cui dici i pip urrà bu peccato pace non mi sembra francamente un video molto interessante da fare per questo che io salvo rarissimi casi in cui magari c'era un'emotività o non era possibile fare diversamente tendo a farli staccati ci perdo qualcosa in termini di visualizzazioni ma credo che la qualità del contenuto ne traga molto beneficio e se e se siamo qua dopo quattro anni e facciamo 50.000 visualizzazioni al mese 45.000 50.000 visualizzazioni al mese senza rompervi le balle tutti i giorni ma dosando direi che il prodotto va bene così per quanto riguarda la giornata io lo so che un contenuto difficile con contenuto che molti ritengono un po palloso troppo lungo ci sta non è un contenuto aperto tutti però un contenuto a cui tengo perché su youtube non c'è niente di simile su in televisione a men che meno e quindi è una cosa che mi piace e che chi è appassionato ho visto che effettivamente segue con interesse se avete delle indicazioni per renderlo più smart più agevole più fruibile io sono qua a sentire tutte le vostre opinioni avete anche la mia mail molti di voi vi seguo anche su instagram insomma abbiamo mille modi per parlarci per capire quali sono le soluzioni io penso che se il problema è la lunghezza si può lavorare sul ridurlo perché banalmente la lettura dei risultati della classifica mi porta via due minuti quando una roba che potrei mettervi a video e poi pace nel senso soluzioni per renderlo più più veloce ci sono bisogna capire se effettivamente siete interessati o meno non nego che mi piacerebbe aggiungere un terzo contenuto però ho una difficoltà incredibile a a pensarlo perché ok video extra che possono capitare diritto tv mercato mercati in estate o dichiarazioni particolari però io altri contenuti non riesco proprio immaginarmi ma un mio limite è un mio limite io mi rendo conto di non avere assolutamente un'impostazione giusta per stare sui social e quindi è per quello anche per questo motivo che io faccio un video magari una cosa che per me non sarebbe in nessun modo interessante per voi può essere quindi se c'è quella rubrica quella cosa da poter portare con costanza che vi può interessare ben venga non vi do per certo che la faccio perché poi bisogna valutare tante cose però volentieri 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 per quanto riguarda invece il mondo podcast perché come ve l'ho anticipato i podcast sono tornati adesso abbiamo tantissime ore perché ho proprio creato investito anche soldi per avere una piattaforma che mi garantisca ore 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 di poter condurre mi piacerebbe e ve l'ho già detto allargarla ad altre persone perché attualmente la piattaforma non è nient'altro che la conversione in audio dei miei video e lo serve mi serve per raggiungere più persone tra l'altro anche lì le nostre 1000 1200 1300 persone al mese le portiamo via quindi direi che tutto sommato ci sta mi piacerebbe avere altre persone che mi aiutano un po perché non è così complicato lo strumento e un po perché obiettivamente non si può arrivare ovunque però serve anche lì capire quali sono le rubriche che vi possono interessare perché ripeto se uno pretende che a gratis si faccia una rassegna stampa le 6 di mattina in modo tale che alle 7 c'è la in macchina mi spiace non ce la facciamo un'idea e ho già forse individuato anche un ragazzo cui devo ancora chiedere francamente sarebbe quella di un podcast che segue costantemente la primavera di fatto fare quello che faccio io proiettato sulla primavera che viene spesso un po snobbata però suscita il suo interesse e anche da un punto di vista del tifoso anche se non è magari l'argomento più acchiappa clic perché poi ve lo dico prestiti primavera sono cose che tutti vogliono sentire parlare quando fai contenuti non se li fila nessuno però mi piacerebbe tanto se avete anche lì in mente altre idee che si possono sviluppare suggeritemele io volentieri se l'idea può essere utile può essere convincente e mi metto all'opera e cerco un modo di poterla realizzare vi chiedo anche questo perché andando a chiedere aiuto altre persone che ovviamente non pagherò perché denaro poco niente non voglio neanche mortificarle non voglio chiedere adesso un ragazzo scusa mi segui la primavera e poi due ascolti ovviamente sarà mia premura diffondere il contenuto ovunque in modo tale da poter raggiungere però capite anche voi che se chiedo aiuto a qualcuno gradirei anche che il suo lavoro venga apprezzato per questo sto cercando un confronto perché poi non mi piace prendere in giro le persone infatti qualcuno l'ho già rifiutato perché mi ha proposto cose che so già che non non avrebbero un ascolto e francamente trovo che sia qualcosa di mortificante per il nulla però vabbè sono qua a raccogliere le vostre idee ultimo punto tema live ora a me le live non piacciono ho anche delle difficoltà enormi a gestirle banalmente non ho il computer e non ho manco la connessione internet però se il computer lo posso rimediare la connessione internet purtroppo dovete parlare col comune di sovere quindi se per voi ci fosse un interesse ad avere una live a settimana magari di due ore non notturna e possiamo fare anche dalle 8 alle 10 dalle 9 alle 10 non sto parlando di una roba never ending che non finisce più io mi posso anche attrezzare che significa andare in un posto dove c'è una connessione farmela prestare da qualcuno allestire qualche accrocco che regge fatemi capire se è una roba che vi può o meno interessare perché a quel punto una volta a settimana non sarà mai lo stesso giorno perché col calendario mobile che abbiamo un po improbabile però si può effettivamente organizzare a patto che ci sia un feedback da parte vostra e feedback non vuol dire non sto chiedendo i numeri però sto chiedendo che la cosa vi piazza tutto qua poi se uno non riesce a vederlo non ha voglia di vederlo un altro discorso però almeno so che mi adopero per un contributo che vi può piacere che vi può interessare come vedete io sono un libro aperto non ho doppie facce non voglio solo continuare a creare contenuti che piacciono a voi continuare a fare coltivare questa community che ci stiamo che personalmente da 4 o 5 anni insieme ovviamente a tarantini che resta il mio impegno prioritario continua a crearmi un grande grande divertimento e una grande grande gioia per qualsiasi suggerimento che scrivetemelo nei commenti così anche gli altri hanno modo di rispondere o di suggerire oppure ovviamente come sempre trovate la mail o instagram o altro io leggo tutto rispondo a tutti grazie mille vi ringrazio come sempre ci vediamo nei prossimi video che saranno a breve perché dovete sapere che ci sono delle news che potrebbero così venire fuori questa settimana e farci molto contenti